Sì, signori, questo è il viaggio in Z3. Maggio peperone. Guardate dove ci siamo, va. Guardate un po' coglione. Ce ne stiamo andando a mangiare a pieve di circo. Questo è quello che si vede dalla Z3 di Maggio. Qui abbiamo il Joy, le vele, le vele, centro ricreativo e discotecaro. Perché se ne vedo un bastardo mi ha segnato la Y. Ciao, adesso c'è la galleria. Ciao, ciao. Guarda, ciao.